Maggiori strumenti alle forze di polizia per contrastare la mafia in Molise. Questo è quanto chiede il Consiglio regionale che a tal proposito all'unanimità vota una mozione. Il Consiglio regionale del Molise all'unanimità ha votato una mozione che impegna il Presidente della Regione a sollecitare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Interno, il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Finanze e il Ministro della Difesa a intervenire con celerità ed efficacia sul territorio della Regione Molise per ripristinare e potenziare gli organici delle forze di polizia, le strutture di coordinamento e mezzi in dotazione al fine di contrastare l'infiltrazione delle mafie in Molise. In apertura era stato proprio il Presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Cotugno, a sottolineare gli impegni portati avanti in merito all'attività di contrasto e prevenzione attuata dall'Assemblea regionale alle possibili infiltrazioni di organizzazioni mafiose sul nostro territorio molisano. Tema questo è stato sottolineato molto sentito dalla popolazione molisana e particolarmente trattato in questi giorni dagli organi di informazione locale. Sulla questione mafie, ha detto in particolare il Presidente, non c'è mai stata indifferenza né inerzia del Consiglio regionale che nei limiti delle proprie competenze ha fatto, sta facendo e farà tutto il possibile per salvaguardare la serenità della nostra popolazione. Cotugno ha quindi ricordato le varie iniziative intraprese dal Consiglio in questi mesi, le mozioni, gli atti di indirizzo approvati, gli incontri con il Governo tenuti e le iniziative legislative presentate. La storia ci insegna, ha concluso il Presidente Cotugno, che le mafie non si combattono con sporadici annunci roboanti, ma con un lavoro costante e quotidiano che promuova la formazione di una diffusa cultura della legalità. Con la mozione il Consiglio regionale invita il suo Presidente e l'Ufficio di Presidenza a promuovere un coordinamento di tutte le rappresentanze istituzionali, sociali, politiche, imprenditoriali e parlamentari del Molise, finalizzato a condividere ogni utile mobilitazione del territorio a tutela della legalità e a salvaguardia della sicurezza dei cittadini.